Come è diverso il mondo oggi, eppure solo ieri le cose andavano come al solito. Mi chiedo se sono cambiata durante la notte. Mi ricordo quasi quasi di essermi sentita un pochino diversa. Ma se non sono più la stessa, allora la vera domanda è... Chi sono io veramente? Credi che non ti capisca? Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te e vigile. E allo stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Perché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità e ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile? Non basta nascondersi, perché vedi, la vita si manifesta in mille modi diversi ed è impossibile non reagire. A nessuno importa se le tue reazioni sono vere oppure false, sincere o bugiarde. Secondo me devi continuare a recitare la tua parte fino in fondo, finché non perda importanza. Così sei abituato a fare, passare da un ruolo all'altro. Così sei abituato a fare, passare da un ruolo all'altro.